Potremmo dire che è come iniziare un gran premio dei box o un campionato con qualche punto di penalizzazione. Appena il tempo di insediarsi e la nuova amministrazione comunale di Villadogna si trova già a dover affrontare una previsione di mancato rispetto del patto di stabilità. Le cifre sono state ufficializzate durante l'ultima seduta di consiglio, dedicata tra le altre cose anche all'approvazione del bilancio 2013. Una scelta dell'amministrazione precedente è quella di realizzare i lavori in località Sant'Alberto, evidentemente ha creato un disequilibrio all'interno del bilancio che in questo momento ci vede sforare per un 67 mila euro circa. Evidentemente questo fattore ci condiziona su tutte quelle che sono le scelte del bilancio che abbiamo dovuto approvare così tecnicamente a pareggio predisposto dall'ufficio contabile sulla traccia del bilancio dell'anno precedente per cui abbiamo cercato di tagliare là dove possibile cercando di rispettare l'equilibrio che ce lo impone la legge. Per cui vediamo di trovare le forme per poter concretizzare questi tagli e soprattutto non aumentare in assolutamente eventuali tasse che dovranno andare a gavare sul cittadino. Questa è la nostra scelta, quindi razionalizzeremo al meglio le nostre spese. Quindi da qui a fine anno lo sforzo sarà soprattutto quello di cercare di rientrare nei parametri del patto? Ce lo impone la legge, ce lo impone il buonsenso perché se non mettiamo in atto tutti quei meccanismi contabili, economici e finanziari per poter rispettare il patto evidentemente l'anno prossimo saranno veramente lacrime e sangue come si suol dire perché verranno meno i trasferimenti dello Stato che in questo momento sono vitali. Per cui il 2013 è un anno un po' di transizione anche perché noi ci stiamo approcciando adesso sia al bilancio alla scelta delle opere pubbliche che dovranno essere ponderate al massimo e sicuramente dovranno essere concretizzate eventualmente entrate. Il bilancio è stato approvato con il sì della sola maggioranza, espressione della lista civica svolta democratica. Voto contrario invece da parte della minoranza Lega PDL. A proposito del patto di stabilità il capogruppo Attilio Fantoni ha detto che le scelte fatte dalla precedente amministrazione appartengono ormai al passato. La minoranza aveva presentato anche un emendamento per chiedere di far confluire le indennità degli amministratori volontariamente messe a disposizione in un fondo da dove attingere per aiutare persone o famiglie in difficoltà. Ma la proposta non è stata accolta perché priva degli elementi formali necessari. La maggioranza si è comunque impegnata a trovare non appena possibile una soluzione in tal senso.